Nonostante si sia registrato un calo degli interventi della protezione civile a Capodanno rispetto agli anni passati, le organizzazioni di volontariato rinnovano l'invito ad un uso attento e responsabile dei fuochi d'artificio, in particolare nei confronti dei bambini che sono le prime vittime dei danni provocati dall'uso improprio dei fuochi pilotecnici. Tra queste anche il gruppo Papaciarli di Pagani con la tradizionale campagna Capodanno senza danno. Ma sono 18 anni che facciamo ordinariamente l'H24, rafforziamo un poco i volontari in servizio la notte di San Silvestro perché si sa che è una di quelle serate dove la gente è una tradizione, anche questa si diverte molto a sparare fuochi d'artificio. Pericolosamente. Alcuni sì, altri no. Diciamo la verità, rispetto ad alcuni anni fa quando eravamo sicuri si usciva perché c'era un utilizzo non corretto dei fuochi d'artificio, da un po' di tempo a questa parte in verità le cose sono migliorate. Gli interventi si fanno lo stesso ma in modo più sporadico. Vuole lanciare un appello? Eh sì, è quello che diciamo sempre, che noi diciamo da anni anche con opuscoli che abbiamo preparato e distribuito nelle scuole, che noi li abbiamo messi in nome Capodanno senza danno, ci riferiamo soprattutto ai padri di famiglia, quando sparano dai balconi di solito di fare molta attenzione perché i ritorni di fiamma, non accendere correttamente un botto sicuramente è pericoloso e soprattutto ai bambini, ai ragazzi, ai più piccoli evitate assolutamente di utilizzare i botti perché sono altamente pericolosi.